Da tempo ormai si respiravano diversi mal di pancia in seno al gruppo consigliare. Rimasti inascoltati per troppo tempo, i consiglieri comunali Nina Schirmenti e Marco Matta hanno deciso di abbandonare la maggioranza per transitare nel gruppo misto. La loro percezione è che il sindaco abbia preso le distanze dal Movimento 5 Stelle e il suo operato li ha portati a questa scelta. Adesso, con il passaggio degli ormai ex pentastellati al gruppo misto, la maggioranza vede ridotto il numero dei consiglieri a 10, mentre l'opposizione adesso vanda ben 14 elementi. La motivazione principale della mia fuoriuscita dal gruppo consigliare del Movimento è relativa al fatto che in questi termini e mezzo non ho potuto svolgere in pieno il mio ruolo di consigliere poiché le mie proposte sono dimaste inascoltate e inattuate. Pertanto, dopo infiniti tentativi di spinta dall'interno, senza alcun esito, non posso continuare a sostenere chi in questi termini e mezzo ha disatteso le promesse fatte in campagna elettorale. Con la forza dei numeri avremmo dovuto rivoluzionare la città. Il sindaco non ha ispirato la propria azione politica ai principi e ai valori del Movimento 5 Stelle. Assunto iniziative in maniera assolutamente individuali e non è riuscito a coinvolgere, a creare e coordinare il gruppo. Ho scritto un report di 11 pagine e l'ho inviato al Comitato di Garanzia, al Collegio dei Probiviri, al Presidente Giuseppe Conte, al Vice Presidente Paola Taverna, sia per email che con la comandata ricevuta di ritorno, però purtroppo non ho ricevuto nessuna risposta. Quindi arrivata a questo punto mi trovo quasi costretta ad abbandonare il gruppo, poiché non rivedo più quei principi e quei valori che mi hanno avvicinato a questa azione politica più di dieci anni fa. Hanno comunicato di aderire al gruppo misto, per cui escono dal Movimento 5 Stelle. Noi ne prendiamo atto. Il Movimento 5 Stelle comunque a Caltanissetta è compatto perché c'è un sindaco, c'è un'aggiunta e ci sono dieci consiglieri comunali, un gruppo folto di consiglieri comunali e noi stiamo costruendo insieme quelle che sono le linee del Movimento 5 Stelle in città e seguendo il programma elettorale. Io mi sento di consigliare ai due consiglieri un atteggiamento di coerenza, quello di dimettersi da consiglieri comunali, perché questo rientra nei principi del Movimento 5 Stelle e se loro ancora si riconoscono un poco nel Movimento 5 Stelle è un'azione che dovrebbero fare.